Se hai un ristorante o se il tuo hotel contiene all'interno un ristorante, bene, se ne è il posto giusto. Oggi parleremo in questo video come far risaltare il tuo ristorante online utilizzando i social media marketing. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video che sarà dedicato ai ristoranti. Voi mi direte, vabbè ma che cosa c'entra? Come vi dicevo all'inizio ci sono comunque delle strutture che hanno dei ristoranti al loro interno quindi sicuramente questo video potrà essere interessante perché nel momento in cui noi abbiamo un hotel non dobbiamo far risaltare solamente le nostre stanze ma anche la ristorazione che offriamo ai nostri ospiti. Meglio ancora queste informazioni saranno ancora più utili se poi accettate anche gli esterni perché a volte questa cosa proprio non è ben definita e quindi non sapete poi come gestire il pubblico esterno e quindi che lo dovete convincere a venire da voi. Ma vi voglio raccontare come è nata l'idea di questo video. Bene, quando poi iniziate voi a seguirmi su Instagram a me piace andare a vedere i profili dei nuovi follower e mi è capitato di essere seguita da un ristorante. Vado sul profilo e la prima reazione è stata wow ragazzi che belle foto, foto fatte bene, i piatti impiattati veramente benissimo. Si vede che si tratta di professionisti e foto fatte professionali. Vedo questi piatti effettivamente mi viene da dire cavolo li vorrei mangiare. Poi apro la foto e non c'è nessuna descrizione. Ragazzi, niente, nulla. E anche le parole sono importanti. Una frasetta messa lì che non mi significa niente. Non dà valore aggiunto alla foto. Mettimi un minimo di descrizione. È un piatto segreto, una ricetta segreta? Ok, scrivimi una ricetta segreta e creami del mistero attorno. Nel momento in cui c'è un elemento, un ingrediente che va a esaltare il sapore del piatto dimmelo. Io so sul feed devo avere fame, mi deve venire l'accolina in bocca e devo avere il desiderio di venire da voi. Quindi mi raccomando non dovete mai sottovalutare la descrizione delle foto dei vostri piatti. Però parliamo adesso di grafica. Foto bellissime e come dicevo in questo profilo non tutti però lo fanno. Non tutti veramente capiscono l'importanza che un giorno ve lo dovete dedicare. Voi lo chef, il fotografo, lo chef deve preparare i piatti e poi devono essere questi fotografati da un professionista. Quindi quel piatto non potete fotografarlo in cucina, sul ripiano di acciaio, fare la foto velocissima perché poi ovviamente deve andare al cliente e non dovete rischiare che diventi freddo. Quindi come capite bene è che le foto poi non saranno mai di qualità. Stessa cosa avete bisogno di fare dei video, sprecate una fettina di carne bello, fate un bel taglio, una mozzarella o prendete un bello spaghetto e fate vedere questo spaghetto, un bel dettaglio. Ecco questi sono tutti i tipi di contenuti che sui social funzionano. E poi questa io pensavo di non dovervela dire in questo video perché in realtà sono un paio di settimane che ci penso a realizzarlo però ahimè ieri ho trovato questo obbrobbio sui social e quindi ho detto vabbè passa facciamo, registriamo questo video. Ragazzi la foto al menù stampato. No, no, non la trovavo più da anni, davvero. Ma si può? Andate su Canva, ve lo fate il menù in 5 minuti e mettete una bella grafica del vostro menù perché adesso siamo in periodo delle feste quindi tutti a mettere il menù di Natale, di Capodanno e va benissimo. Però per favore non la foto al foglio stampato, almeno devo dire che questa volta il foglio era a colori. Tanti anni fa mi trovai addirittura un foglio stampato in bianco e nero e tra lato la stampa venne proprio male tutte le righe, un obbrobbio. Tornando a questo discorso va benissimo che voi mettiate il menù delle feste, ok? Però poi la narrazione non si può fermare lì, non è che voi mettete un post oppure ripubblicate lo stesso post e quindi bene la gente prenoterà da voi. Conto che se voi avete una domanda più alta dell'offerta, voi basta mettere mezzo post e avete risolto. Ma quando non è così, bene, la narrazione deve continuare. Come vi dicevo, non utilizzando lo stesso post ma andrete a esaltare i singoli piatti. Bene, una volta abbiamo parlato del menù, oggi parliamo magari degli antipasti, parliamo del primo, parliamo del secondo e così via. Come ne parlate? Beh, ve l'ho spiegato prima, vi ho detto come gestire le foto, come gestire il copy. Bene, fatelo in questo modo. Altra cosa che per quanto riguarda invece il menù è quando mettete i menù misteriosi, quelli dove scrivete antipasto primo e secondo. Beh, mi dispiace, questa è una cavolata. Io capisco che magari qualcuno vi copia e questa cosa vi dia estremamente fastidio, ma se proprio voglio, vi voglio copiare, io vi faccio una chiamata perché è così che puoi gestire la prenotazione. Vi chiedo, beh, che si mangia? Perché di certo non prenoto scatola chiusa. Voi mi dite il menù, da voi non prenoto, sono la cugina del competitor e riferisco tutto al vostro competitor che vi copia il menù. Questo che cosa vi sto dicendo? Che se vogliono vi copiano lo stesso. E fateli copiare, ma che cosa vi importa? Saranno sempre una brutta copia dell'originale. E tra l'altro, se voi state facendo le cose bene, voi avete pensato un menù che è adatto al vostro target. Loro che cosa stanno facendo? Stanno copiando il menù pensato per il vostro target, non per il loro. Quindi lasciateli fare questa cosa a lungo termine, per loro sarà un danno. Voi adesso vi arrabbiate, vi nervosite, però davvero lasciateli fare. Non ne vale assolutamente la pena. E infine parliamo di come dare valore aggiunto al vostro ristorante. E questo è davvero fondamentale. Ci sono degli aspetti che per voi sono normali, per noi no. Così come l'ingrediente in più che salta il piatto, ma ci sono altre cose tipo il fatto di utilizzare prodotti a chilometro zero, il fatto di avere il pesce sempre fresco, bene, me lo devi dire, me lo devi raccontare. Fallo anche attraverso le stories. Fammi vedere il pesce fresco che lo vai a prendere al mercato, che vi arriva in struttura. Bene, questa cosa è fantastica. Umanizzate il brand, fate vedere effettivamente che il pesce è effettivamente fresco e così via. Ci sono ristoranti, una volta sono andata in agriturismo, che aveva l'orto dietro al ristorante. Per questa cosa voi ve la dovete vendere, ve la dovete spendere sui social perché vi aiuta a fare effettivamente più coperti nel corso del tempo. Altra cosa che secondo me alcuni di voi sottovalutano è quello di dare il risalto all'eventuale gestione delle intolleranze alimentari o comunque delle esigenze alimentari in generale. Se voi siete attrezzati per poterle gestire, questa è un'informazione importante. Credetemi, io non ho problemi con i glutine, ma ho delle amiche che lo hanno. Quando dobbiamo cercare dei posti insieme, anche la ricerca su internet a volte è difficoltosa. E poi vai a scoprire magari nella tua città che in realtà ci sono tantissimi posti che lo fanno, ma che non lo dicono, non si sanno vendere in merito. Quindi davvero questo è molto importante. Noi una volta abbiamo fatto per una struttura ricettiva, addirittura una video intervista allo chef, che lui si occupava di tutta la gestione della parte di intolleranze alimentari. Quindi prima ci ha spiegato tutto il processo di produzione dei dolci per la colazione, per i pasti, poi come venivano serviti i pasti per le persone che avevano le varie intolleranze. Bene, questo video è andato benissimo perché andava a rispondere proprio a un'esigenza e poi andare a valore aggiunto non solo al ristorante, ma anche alla struttura ricettiva in questione. Poi, tornando facendo l'esempio dello chef, se non avete problemi di ricambio di personale, beh, sfruttate, chiedete loro di partecipare nei video. Cioè avete il pizzaiolo? Bene, fatelo giocare con una pizza. Ho fatto l'intervista al pasticciere oppure abbiamo, non so, fatto vedere proprio dallo chef una preparazione. Fatelo, veramente. e umanizzate ancora di più il vostro brand e vi rendete umani, soprattutto quando un brand è umano nel momento in cui sbaglia è molto più facile poi che veniate perdonati. Un ultimo consiglio che vi voglio dare è per i ristoranti che sono all'interno delle strutture ricettive. Prima di tutto, mi raccomando, se accettate gli esterni dovete farlo sapere e comunicarlo al mondo perché poi a volte non vengono da voi perché effettivamente pensano che siete un ristorante solamente per i vostri ospiti. Poi un'altra cosa importante, ricordatevi di esaltare la tipicità del posto. Le persone che vengono da voi vogliono trovare almeno una volta un piatto tipico della zona. Questo lo vogliono, anche se poi magari non lo prenderanno perché, non so, è un piatto tipico di pesce, non mangiano pesce, ma le persone se lo aspettano e credetemi quante recensioni negative trovo da gestire proprio in merito a questo argomento. Quindi quello che io vi sto dando adesso è un consiglio prezioso per evitare recensioni negative che sono assolutamente inutili. Quando per esempio in Puglia potreste banalmente inserire un piatto di orecchiette alle cime di rapa oppure orecchiette a sugo, un altro secondo, oppure fare magari una panza rottata una sera, però attenzione non dimenticate di esaltare il posto così da tenere contenti gli ospiti che verranno da voi. Ora io spero che questi consigli vi siano stati utili, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti e ovviamente prima di andar via non vi dimenticate di iscrivervi al canale. Io vi aspetto nel prossimo video. Besos!